Ovviamente non fa piacere a me, non fa piacere a nessuno. Bisogna solo lavorare, 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 lavorare. C'è solo un metodo per uscire dalle difficoltà ed è questo. Lavorare, lavorare, lavorare con criterio ogni giorno, ogni palla, ogni minuto, sempre lavorare. Solo questo posso dire, per poter subire meno reti possibili. Ovviamente bisogna reagire, se no stiamo parlando proprio di altro. Cercheremo di andare al reggio e fare punti, con le buone, con le cattive, come sia sia. Serve la forza del gruppo, perché poi gli attaccanti sono i primi difensori e i difensori sono i primi attaccanti. Serve ognuno di noi che dia la forza all'altro, al compagno accanto e io do la forza al mio compagno accanto. E questa ritiene sia mancata finora in qualche partita? No, sicuramente non è mancata, perché in ogni partita ovviamente ognuno è del meglio di sé. Però ancora di più nei momenti di difficoltà bisogna far emergere la forza del gruppo, che poi il calcio essendo uno sport di gruppo è la cosa fondamentale.